prurito fastidio eruzioni cutanee inestetismi pelle che si squama la psoriasi è davvero un disturbo fastidiosissimo cosa fare per farla sparire il dottor squalozzi mi ha detto che colpa dello stress e mi ha prescritto un viaggio a charcoal shake con lui sicura che sia la psoriasi quello che gli interessa per fortuna invece la psoriasi interessa gli scienziati francesi che stanno conducendo il nutrinet santé cohort uno studio nazionale mirato a scoprire il collegamento tra alimentazione e salute e ci hanno dimostrato un rimedio inaspettato per combattere la psoriasi e dimostrato dalla scienza se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video lo studio è stato pubblicato sull'autorevole rivista jama dermatology e trovate il link in descrizione andate a leggere grazie a due anni di sperimentazione hanno scoperto che una certa dieta è molto efficace per ridurre la psoriasi e combattere i suoi sintomi più la si segue e meno la psoriasi è grave più si sgarra più i sintomi diventano visibili e fastidiosi ecco ora mi direi che una dieta complicatissima e costosissima al contrario è la più semplice che ci sia semplice come iscriversi al mio canale cliccare sulla campanella delle notifiche e aiutarmi a portare avanti la mission del canale offrendomi simbolicamente un caffè d'orzo e una brioche vegana ogni mese con l'abbonamento al canale info in descrizione la dieta anti psoriasi raccomandata dai ricercatori è la dieta mediterranea evviva il merito è delle sue proprietà anti infiammatorie grazie a cibi come verdure a foglia verde semi oleosi legumi olio di oliva limoni arance frutti di bosco e grazie al consumo ridotto di salumi carni rosse formaggi e cibi fritti ovviamente si riferiscono alla dieta mediterranea originale quando la carne era un lusso e non si eccedeva mai e gli eventuali formaggi erano fatti in casa non in fabbrica quindi i cibi erano davvero genuini se volete piatti sani ispirati alla dieta mediterranea trovate tante ricette nel mio manuale moderno di alimentazione naturopatica con tutti i miei consigli più utili per mangiare sano il link è in descrizione sulla psoriasi ho fatto anche altri video li trovate in questa playlist se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao il dottor spalozzi mia a per combattere la